E ciao a tutti ragazzi sono Dugente e ben ritornati qui sul mio canale, siamo tornati qui, signori, dopo tantissimo, tempissimo, su un pacco opening, opening pack della storia mondiale. Signori dopo lo scorso opening pack che è stato praticamente un'eternità fa dove non abbiamo trovato praticamente nulla, ho deciso di fare questo pacco opening anche perché la squadra della settimana non è niente male signori. Guardate qui c'è Suarez che ci ha fatto piangere la scorsa volta Maif perché l'ha fatto un partitone contro Real Madrid, c'è Kane, c'è questo qui che è popofiero signori, Oldby incredibile popofiero. C'è Barclay, c'è Iniesta, Cruze, c'è Cruze, c'è Bovo addirittura, c'è Murillo, c'è Skirtle, c'è Martinez e c'è Mandanda. In più c'è Adler, c'è Godin, signori 87, c'è Insigne, c'è il topo morto, c'è Marlos, insomma signori veramente veramente di tutto. Non capisco perché Godin sia in panchina e Murillo o Skirtle o Martinez o Bovo siano titolari perché non lo so perché non lo so. Vabbè, signori quindi andiamo subito ad aprirci questi pacchetti signori. Ci sono i pacchetti da 35.000 signori per non fare la fine dell'altra volta che ne abbiamo aperti tipo solo due e poi non abbiamo aperto più nulla. Ne apriremo solo uno di questo e poi apriremo i pacchetti da 7.500. Non so se iniziare prima col pacchetto mega galattico oppure partiamo con i pacchetti oro. Allora facciamo così, apriamoci i primi pacchetti oro come nonchalance finale ci apriamo il pacchetto da 35.000. Signori partiamo subito, c'è Aghero, no, deve esserci l'HZ, l'HZ signori. Primo pacchetto dopo tantissimo tempo. Vai porco, vai porco. Terzino sinistro. Oh, Baba. Ma Meet, 78 c'ha Baba, era Argentone l'anno scorso, figuriamoci. C'è Pioli, c'è Pioli. I contratti ci servono tutti. Questa divisa è fighissima, raga. Comunque c'è Baba, vediamo quanto costa Baba. Tante volte, comunque, è piotta che una bellezza. 1.300, una merda praticamente, ok. Però noi, ragazzi, come sapete, non scartiamo. Andiamo tutto al club, io non butto via niente. Secondo pacchetto, signori, da 7.500. C'è Alaba, 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 David Luiz, uscito male. Birsa, mamma, ma quanto sei possente. Castillon, che forse sta guardando lo schema della sua squadra, sta dietro. Cazzo, dove cazzo gioco? Ancora Alaba, signori. Alaba, che prima ci ha fatto trovare un Argentone incredibile. Vai Alaba. Alaba. Ma manca un oro raro, partners. Jerome, Bobo, Viejo, ma che testa c'hai? Mamma mia, che testa c'hai? C'è Mastrolindo. Ma che palle, lo stema dallo Sporting Lisbonne, incredibile. Mandiamo tutto nel club. Mamma, che palle, raga, Alaba ancora. Tutto Alaba oggi. E forse dovrei cambiare, questo lo schippiamo. Lo schippiamo? Schippiamo Lukaku. E beh, signori. Lukaku è un altro agentore, Kaminsky. Kaminsky, contratti, allenamenti, Lukaku ed Hernandez. Quanto costa Lukaku? Qui ci sto trovando molti della BPL. Qua 3,8, 2,3. 2.000 crediti costa Lukaku. Vabbè, noi mandiamo tutto al club. Non buttiamo via nulla, signori. C'è Messi stavolta. Stavolta c'è Messi. Vai porco. Porco. Mentre Ululi. Mentre Ululi. Neto. Neto! Rudiger che è buggato. Quindi ce l'ho detto. Zucanovic. E ancora Pioli! Ma scherzi. Inviamo tutto al club e scartiamo Pioli. Ma vogliamo... Eh? Dico. Raga, per chi seguiva i miei vecchi opening pack di FIFA 15, sapeva che io aprivo alcuni pacchetti con Woody. Ora non abbiamo più solo Woody, ma guardate chi abbiamo. Forse non sapete che io adoro Toy Story in una maniera assurda e guardate chi ho qui. Buzz Lightyear, signori! Vai, Buzz! Usa le tue mani incredibili per aprire un pacchetto. Sarà difficilissimo, però noi ci proviamo. Fa un movimento bruttissimo la sua mano. Vabbè, ho spinto io giù. Sei sicuro? Sì, tu premi X. Vai, Buzz! Colcun Aghero! Aghero! Vai! Mentre parli! Mentre parli! Mi è esploso! Badegg! Dai, ma che schifo, Augusto! Rada del Bari, grande Rada! Ancora Pioli, raga! Ma cos'è? Oh, è assurdo, raga! Tre volte Pioli non si è mai visto! Mi perseguita! La Lazio mi perseguita, raga! C'è Messi, ricordiamoci che dovevano avanzarci 700 FIFA Points per prendere il pacchetto mega galattico. Messi ci fa trovare... Un oro raro, no! No, Hector! Mossoro! Belli capelli! Lo stema da... Mille crediti! Mamma mia! Oh, ma che figata che sta male! Lo stema dall'Argentina! Vabbè! L'unica cosa che decende qua sono i contratti, quindi vedi un po' come siamo messi. Kane, signori! Harry Kane! Che ci fa trovare Kane If! Harry Kane ci fa trovare Kane If! Susaita! Cardona! Un altro argentone! Tutto argento... Un altro doppione? Non è che era di nuovo Pioli, eh? C'è... A volte c'è Griezmann! È il primo pacchetto con Griezmann, signori! Incredibile il primo pacchetto con Griezmann! Primo pacchetto con Griezmann! Oh! Oh! Schiappi Alonso! È buono! È buono! È buono Schiappi Alonso! Ma... Schiappi Alonso, signori! Anche Griezmann, Woody Allen, Schiappi Alonso! Quanto costa? Una chiavica! Una merda! Vabbè, questo ce lo vendiamo subito, intanto la Bundesliga non ce la faremo mai nella vita! Costa quasi 5.000 crediti! Buttiamo così, si è buggato tutto! No, mai nella vita! 2.800 crediti! L'ultimo pacchetto, signori, da 7.500, perché poi apriamo l'ultimo pacchetto da 700 FIFA Points, signori! Griezmann ancora! Griezmann! Griezmann! Di che nazionalità sei? E quelle manga! Gabon, signori! Abbiamo trovato un giocatore del Gabon! È Antonio Carlos! C'è Pioli? No, non c'è Pioli! Inviamo tutto il club, signori, ultimo pacchetto del giorno! Pacchetto promo! Il più grande pacchetto disponibile con 30! Sì, 30 oggetti! Include giocatori e consumabili almeno 28 ore di cui 18 orari! E tu, porco di quello schifo, in 18 orari mi fai trovare qualcuno! Lo voglio guardare, raga! Lo voglio guardare! Ti prego, Suarez! Esci! Vieni a me! Kagawa! Non ci che... Ma che pacchetto di merda! Ter Stegen, Kagawa, Johnson, no, no! Ma che pacchetto di merda! C'è Pioli, me lo sento! Gervinio e Luiz Adriano! Un pacchetto oro abbiamo sbloccato! Yeah! C'è Gervinio e Luiz Adriano! Fantastico! Lo stemma della Polonia è una figata! Lo stemma del Los Angeles e lo stemma del Livorno! Quattro... Regà! Quattro stemmi! Fantastico! Contratti che, vabbè, ci servono! C'è... Boh, non lo so! DeWitte, Fletcher, Boo! Che è perfetto per la tua faccia! Onua che ha visto la Madonna! Johnson! Vediamo un po' Ter Stegen! Ter Stegen, vabbè, però, dai, per un pacchetto così non puoi farmi trovare Ter Stegen! Infatti è una pipa clamorosa! Kagawa quanto costa? Quanto costa Kagawa? Kagawa? Mille qua, manamè! Ma che schifo, ragazzi! Bello schifo, signori! Questi no! Li mandiamo tutti in lista trasferimenti! Perché, comunque, qualche cosa ne costa! Non li scartiamo! Gervinio costa... Andiamo più! È l'ultimo pacchetto! Quello oro gratis! E ci farà trovare incredibile! Pazzesco! Lui! Su Saeta! Di nuovo! Oggi è la giornata dei doppioni! Neussan... Ter! Tra un po' i capelli ti arrivano in faccia e non vedi più niente! Kuts! Kums! Sono giapponese! Su Saeta! E Bobo, di nuovo! Oggi è tutto... Doppioni, regà! Oggi è la giornata dei doppioni! Vabbè, ragazzi! Non so che dire! Vabbè, siamo arrivati a 3500 crediti! Incredibile! Signori! Con questa squadra della settimana siamo riusciti a trovare ben... Un cazzo di niente! Signori! Io spero che il video vi sia piaciuto lo stesso! Oggi è la giornata di Pioli! Tre volte Pioli abbiamo trovato! Incredibile! Manco a trovare, non so, un Argentone If... Niente! Zero proprio! Signori! Io spero che il pack opening vi sia piaciuto lo stesso! Mi raccomando! Fatemi sapere se volete altri pack opening! Arriviamo a 100 mi piace! Se volete un altro pack opening! Spero che il video vi sia piaciuto! Se fosse così lasciate un mi piace! Commentate come di video! Mi raccomando! Positete la mia pagina Facebook! Il mio profilo Instagram! Tutto so è volato in Europlano! Tutto sotto in descrizione! Il video è finito! Da The Giant è tutto! Ciao! 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 Ciao!